Buongiorno, eccoci oggi con nuovi esercizi semplici e importanti per il mantenimento della condizione fisica quindi avere cura del proprio corpo, ottenendo anche grandi risultati ma non nell'immediato, ma questo è il segreto dei grandi per fare grandi cose bisogna lavorare sulle piccole cose in maniera continua, costante quindi per fare questo uno ha bisogno di mettersi nella migliore condizione quindi non faticare a fare cose comunque divertenti ci mettiamo giù allora, facciamo il primo esercizio il primo esercizio è, tra virgolette, è un esercizio che è come quello del tavolino rovesciato diciamo di impegno fisico, però è un po' più blando noi oggi faremo intanto questa versione e poi andremo ad arricchirla con delle cose molto più complicate quindi si mette sdraiati i piedi, però la raghezza delle spalle si dice basso normale appoggiali per terra, da qui solleviamo il sedere allineare, fare una linea in questa maniera, ecco proprio? ok, tieni 10 secondi, un po' più vicino i piedi ok, tieni così, le braccia a lungo i fianchi, così che ti aiutano proprio presto, così, ok, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 giù ora la versione è più complicata, quindi sempre da giù ora che facciamo? andiamo in elevazione, su, ok ora metti una mano sopra la gamba, anche l'altra e ora che facciamo? mantenendo il sedere in alto allunghiamo la mano prima verso il ginocchio da una parte poi verso il ginocchio dall'altra parte allora, quindi 2, 2, 3, 3, tutto rimanendo con il sedere in alto come quando ti dici? tira su, tira su quindi l'azione è andare su, eh sì, eh sì ok, tra l'altro questo che fa? lavoriamo anche nel centrico che non so, è un lavoro molto importante noi facciamo addominali ma senza andare a lavorare sotto in contrazione, quindi fare una leva positiva quindi lavorare con muscolo, sugli addominali senza andare a sovraccaricare e a creare troppa attenzione sul lato lombare vabbè, altro esercizio scioltezza e prendiamo sulla verticalità la verticalità orizzontale come facciamo a simulare la verticalità orizzontale? niente, ci mettiamo tra i atti per terra questo è come se fosse una parete, ok? mettiamoci così ah, ti mettiamoci così vai, vai più in là mettiti qua vai così no, no, così vicino a me ok, un po' più in là oh sì, bravissimo da così guardiamo verso il basso doppiamento così, bravo, ok e ora da così facciamo piega una gamba di lato quindi partiamo in scioltezza giù e dall'altra parte questo è il riscaldamento ok, guarda in basso vai su e giù su e giù su e giù su e giù questo lo facciamo decine volte così ci scaldiamo poi, per andare a scaldare anche la parte superiore che facciamo? ora, manteniamo sempre così mettiamo le mani sotto 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 la fronte guarda amore maia così una sopra l'altra in questa maniera una mano l'altra mano la fronte così ok, da questa posizione qua tiriamo su e giù tiriamo su e giù tiriamo su e giù tiriamo su e giù questo sempre tre volte per secondo me una volta intanto basta all'inizio intanto facciamo riattivazione continua ogni volta facciamo nuovi stimoli ok? ora facciamo questo ora mettiamo le mani sotto questo ah sì facciamo riuscire aperte guarda facciamo eh ti guarderai con la mia ok? ora che facciamo se ci mettiamo vediamo no è la gamba alzata questo questo e poi questo questo e poi questo e poi questo vedete? e si le mani così arrivo la mia verso in su in su in su in su tenete le mani con cui la piega è questa e rinché è lì qua distendi amore così e distendi brava dall'altra parte bravissima piano piano torna al centro bravissima brava prestito quanti ne abbiamo fatte? allora il mezzo tavolino con le spalle a terra il mezzo tavolino con le spalle Poi abbiamo fatto gli addominali mantenendo sulla schiena, quindi lavorare su gli addominali e lavorare anche sui glutei, ok? Poi abbiamo fatto tutto quello che è il dorsale, dice il femorale, compagno e pelle, più la flessibilità laterale, più l'apertura e la scioltezza di bacino. Quanti sono? Tanti! 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Quindi sono 5 esercizi.